Cosa ormai aritmetica Carvalho mai meno A per i di l'evo non potete esce oggi E Marcial si è incuniato tra due giocatori avversali Liminà ha lasciato il panone lì senza allontanarlo sulla corsia Ma in modo centrale mai commettere questo tipo di errori Verso effettivamente l'uomo La regia ci ripropone il gol di João Mutinho Secondo consecutivo per lui Liminà Eccolo attaccato in pressing da João Mutinho Piccino a Marcial Con Carrasco a larga sinistra E Bernardo Silva dall'altra parte Regione Messo al centro Il suo progetto tattico Quest'anno però sta arrivando una bella risposta Più scettici Del Siviglia Dovene Kurzawa Anche l'OM Con il freno a mano tirato Perché ha pareggiato la prima Contro il Bastia per 3-3 E poi sul campo del Con E poi c'è Salpeci Un avvantaggio di 6 punti A 2-3 Tovene Che potrebbe lasciare Marsiglia Appunto La squadra del Loco non dovesse raggiungere la Champions League Silliese Due giornate dalla fine Coulou Condogbia Dentro da Martial Coulou Un po' in ritardo Poi rimedia Raggi a battere Abbiamo superato il primo quarto d'ora E 1-0 per il Monaco Decide La bomba da fuori di João Mutinho Martial In mezzo a due avversari Li supera entrambi Ancora Martial Davanti in Coulou Gugliano Ugraggia Controattacca Monaco Martial Celosna Obchie впечатlение Odegra Il futbolista Cresciotto Maggavite Echè Adin Nekazist Echè 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 Anri Echè 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 Siamo tranquillamente, che Monaco è giocato. Moutinho. Pagliare, Moutinho scorchita. Statico. Sì, 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 sì. Siamo 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 2 kg Vez No In Finanza Poluzasciitico In P Server Vosemme Golov Zabito E Siamo Perchate Mice Siamo 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 con la scuola e poi la scuola, la scuola, la scuola Riccardo Carvali, la scuola in suo tempo il suo tempo è molto alto quando erano in francesco in questo momento 42 minuto Marsella credo che qui dovrebbe essere un gioco Fondare il giurmano In giusti i giusti In giusti i giusti i giusti Il giusti i giusti Adopo A questo in giusti In questo senso è molto Oltre solo Credo Perciò 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 Non è Ma Se 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 Si Grazie per la visione. Grazie per la visione.